Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Volevo trattare oggi un tema che è molto interessante, che ha carattere innovativo, seppur ormai il sistema elettronico della posta certificata è un sistema che ha acquisito un'attività che è pregnante per tutti i professionisti, ma anche per le imprese. Sono le notifiche effettuate a mezzo PEC. Voi sapete che sono stati istituiti proprio dei registri appositi nei ministeri. C'è quello per i professionisti, che è il registro regginde, in cui ognuno deve indicare la propria casella PEC, che diventa poi fondamentale anche per le attività processuali, con il processo civile telematico. E c'è quella per le imprese, che è governativa, che si chiama INIPEC, dove tutte le imprese hanno l'obbligo di indicare la propria casella di posta elettronica certificata. E' il sistema acquisito ormai una certezza sotto il profilo giuridico che diventa importante nel senso della tempistica e della celerità, perché uno dei problemi che si sono posti nell'arco del tempo, soprattutto a livello tributario, che poi è il tema che ci riguarda particolarmente, è quello della validità delle notifiche. C'è un mare di giurisprudenza, un oceano, se le dire, di giurisprudenza, che va solo a verificare la validità o meno della notifica, perché il servizio postale, nell'arco del tempo, ha determinato tutta una serie di falle, per le quali si è arrivati perfino in Cassazione, solo al fine di stabilire se la notifica del giudizio di primo grado era valida. Quindi sono state varate delle norme che erano appositamente costruite al fine di accelerare questo processo di notificazione, proprio sotto il profilo temporale, perché basta la spedizione di una posta elettronica certificata per considerare valida la notifica al momento della ricezione della PEC di consegna. Nel solco di questo è stato costruito un sistema che è al vaglio, perché come vedremo nella puntata di domani c'è una giurisprudenza contrastante sul punto che stabilisce che le modalità con cui Equitalia notifica non sono modalità valide, sotto diversi profili che vedremo. La cosa che mi interessava particolarmente oggi è dire, intanto che fino ad oggi in questo momento è solo Equitalia che può notificare gli atti tributari, non lo possono fare ancora l'Agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori come i comuni, lo potranno fare a partire dal 1 luglio 2017. La norma è l'articolo 26,2 del DPR 602 del 73 che dice che la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica, il numero 68 del 2005, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi e tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche in via telematica dagli agenti della riscossione, quindi c'è questo sistema di costruzione. Questa norma poi è stata modificata ed integrata dal decreto legislativo 159 del 2005 che ha stabilito che tale modalità facoltativa diviene obbligatoria dal 22 ottobre 2015 per le imprese individuali, imprese costituite in forma societaria e i professionisti iscritti agli albi. L'ultima cosa che volevo segnalare, la validità della notifica si ha nel momento in cui si riceve la consegna, cioè la PEC di consegna, quindi i termini per il soggetto che riceve un atto tributario decorrono dal momento della consegna, non da quando è stata aperta il messaggio di posta elettronica certificato. Quindi attenzione, andate sempre a verificare il momento in cui è arrivato nella vostra casella di posta perché da quella data vi decorrono i termini per l'eventuale impugnazione in giudizio di quella cartella esattoriale e non ci sono interpretazioni valutative sotto questo profilo perché il termine è tassativo. Vi aspetto nella puntata di domani dove faremo un viaggio nella giurisprudenza di riferimento di commissioni tributari che sotto diversi profili hanno ritenuto nulle le notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo PEC. Per oggi vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie a tutti.